No è perché devo fare attenzione. Comunque ragazzi consigli per pulire la bunga. Ma che cos'è la bunga? Ciao Raffaele. Allora ragazzi... Hai citato il live dal Congo. E' bene brutto, vieni ci fai con un bagno. Così entrano? Ok consigli per pulire il... Il cirum. Non voglio sapere cosa sia. Sinceramente.